Io vorrei parlare con lui finalmente delle leggi ad persona, perché c'è dibattito, perché continuamente il Presidente del Consiglio dice che non è vero che ci sono state fatte in questi ultimi 15 anni delle leggi ad persona. Tu hai detto delle parole fondamentali su questo. Beh, ho detto quello che abbiamo in realtà fatto per molti anni. Lei e lui? Lei e lui, io, lui e tanti altri. Certamente la mia posizione era particolare perché essendo un tecnico del settore potevo mettere a disposizione di questa, diciamo, di questa anomalia le capacità scientifiche, diciamo. Ma l'anomalia è lui? L'anomalia sono le leggi che facevamo. Ad personam. Sì, unicam personam. Quante ne ha fatte lei più o meno di leggi ad persona? Eh bene, abbiamo fatte tante. Ma più o meno due, cinque, dieci? Quali, quali? Molte. Beh, abbiamo fatto il legittimo... Il pedimento, il sospicione. Il pedimento, il sospicione. Abbiamo fatto la prescrizione, abbiamo fatto l'ex Cerielli, abbiamo fatto... Adesso non me le ricordo. Tu sei un po' come Calderoli. Ma no, adesso scusa, non offendere così il signor Cattormina. Perché lui ha fatto la legge... No, Calderoli è una persona... E poi ha detto che era una porcata, cioè, in questo senso. Insomma, tutte porcate erano, una presa all'altra. Erano tutte porcate. Sei un po' pentito? Ma pentito no, perché allora c'era... Cioè, pentito sul piano tecnico, scientifico, io sono un professor universitario, e quindi sono sicuramente pentito. Ah sì? Pentito di aver fatto porcate? Beh, di aver fatto... Beh, quelle erano porcate. Però in quel momento... In quel momento il problema era una sorta di delegittimazione di Berlusconi, nel senso che la sinistra non lo riteneva legittimato a governare. E quindi lo scontro non era più sui contenuti delle leggi. Era dimostrare che avevamo la forza per resistere e quindi Berlusconi per governare. Quindi legittima difesa era? Legittima difesa no, ma insomma, certamente c'era questa posizione... Perché se no si poteva fare una legge sola, chiamiamola legittima difesa, e così diceva, per favore, non rompete i coglioni a Berlusconi. No, no, no. Bastava farne una soltanto, bastava farne quella... Cioè ripristinare quella che era la vecchia immunità parlamentare e ha risolto il problema. Ma siccome era una cosa seria non si è fatto. Senti, però io poi dopo aver intervistato te, ho intervistato Ghedini. E Ghedini dice che col cavolo che tu eri il consulente legale di Berlusconi, col cavolo che tu hai fatto una legge... Nemmeno una, dice Ghedini. Ghedini può dire quello che vuole. Io sono in contatti, in frequentazione stretta con Berlusconi dal 93, per cui insomma lui è arrivato molto dopo e quindi probabilmente le cose non le sa. Da tanto che non lo vedi, però... Chi, Ghedini? No, lui, lui. Berlusconi? Quindi è più bravo lei a fare le leggi ad persona o è più bravo Ghedini? Beh, Ghedini le ha sbagliate tutte. Tutte. Beh, mi pare che è evidente, tant'è vero. Insomma, nonostante si sia cercato in tutti i modi di fargli vincere una causa in tribunale, non ci è riuscito nemmeno con le leggi nuove. Le nostre sono state fatte e le abbiamo portate avanti. E hanno funzionato. Cosa decide la Corte Costituzionale il 14 dicembre sul legittimo impedimento? Ma se decide tecnicamente deve dichiarare incostituzionale il provvedimento. A quel punto cosa succede se non c'è più la legge sul... C'è il rischio che lo condanni, no? No, anche se lo condanni, no, l'età non conta. Secondo...